Morire veramente in un modo troppo assurdo è un messa infinitamente giovane, si chiamava Chelsea Hick, scritto H.P., era una ragazza di 24 anni, è nevata, sta di vita medica, ed è morta in modo incredibile, rimasta incastrata nella criocamera. La polizia, intervenuta sul luogo del dramma, cercando di costruire in modo piuttosto sintetico la vicenda, sembra che la ragazza sia rimasta intrapolata per circa 10 ore all'interno della cabina, dove le temperature scendono a 150 gradi sotto lo zero. A quella temperatura un corpo umano può assistere per più di 3 minuti, la polizia sarebbe certa che a causare la morte sia stato un errore di tipo umano. La ragazza è la maneggela del salone dove rappresenta la sua camera, forse rimasta intrapolata dal suo interno durante qualche operazione di polizia o piccola movimensione. con un suo amico, Shailo WinBee, ha la becca di NBC. Sa che stava per più e nel negozio, e alla mia amica sono disperato. Alla mia amica sono disperato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.